Un partito, il mio Italia Viva, ha detto ragazzi tolto quello che serve per la pandemia mettiamo tutto sulla riduzione delle tasse perché il problema che abbiamo oggi in Italia è far sì che chi la mattina si alza, alza una sala cinesca o va a lavorare, paga troppe tasse. Sono stati messi 6 miliardi più 2 che già c'erano in bilancio fanno 8, secondo noi si poteva far di più e grazie a questo dal primo gennaio un milione di persone non pagherà più l'IRAP e 7 miliardi vanno ad abbassare l'IRPEF, ma bisogna fare molto di più. Il problema sono quei partiti che a quel tavolo io c'ero, dicevano no mi serve il super bonus, no devo mandare in pensione la gente a 60 anni, no mi serve il reddito di cittadinanza. Poi venivano da lei in trasmissione a dire bisogna abbassare le tasse, questo è il punto, questa è la credibilità della politica che manca. Noi in questi anni siamo andati in tv a prendere l'applauso, poi quando andavi ai tavoli di governo e beh però ciò tengo famiglia. Noi diamo un messaggio molto chiaro, abbiamo, c'è il PNRR che va per conto suo con gli investimenti, transizione ecologica, poi bisogna abbassare le tasse.